commozione lacrime e rossori in viso hanno contraddistinto il saluto di giuseppe de feudis al calcio giocato ma non al cesena 301 presenze 4 avventure intervallate al cavalluccio per la durata totale di 10 stagioni 9 gol il record di 5 promozioni maturate in tutte le categorie e la conquista della coppa italia di serie cira presentano l'immenso palmares dell'ex centrocampista ora si apre la strada di collaboratore tecnico di william viali volevo ringraziare anche mia moglie che mi è stata vicino in tutti questi anni e messo su famiglia insieme a lei e mi ha seguito e supportato in tutte le scelte che che ho fatto e quindi si è fatto tutto questo molto merito è suo e ringrazio la società anche per questa nuova opportunità che che mi sta dando perché ho solo da imparare da da un tecnico come il mister medri e mister viali ho tantissimo da imparare da tutti i suoi collaboratori e e sono contento di iniziare questa nuova avventura e e Grazie.